Quarta sconfitta consecutiva per il Nereto che cede 5-0 all'Aurora Alto Casertano che conquista così la prima storica vittoria in Serie D, doppietta di Maidana in reti del Baby Romeo di Monteleone e Megaro. Il Nereto, senza mister del grosso in panchina, si presenta a Pietra Melara con una squadra imbottita di under. Passa subito in vantaggio l'Aurora Alto Casertana con il Baby Romeo classe 2002, nemmeno il tempo di riordinare le idee che per il Nereto le cose si mettono malissimo. Al quinto è l'ex di turno Maidana a provarci dai 16 metri, battendo ancora una volta Diglio. La risposta del Nereto si registra con una conclusione di pedalino controllata dall'estremo difensore Vitiello. Il primo tempo è un monologo locale. Nella ripresa il Nereto esce dagli spogliatoi con un piglio diverso, ma la resistenza dura poco. In quanto, dopo dieci minuti, arriva anche il Tris e ancora l'argentino Maidana a trovare l'angolino. Al 65esimo arriva addirittura il poker per i padroni di casa, quando è Monteleone a risolvere una mischia in aria. Prima del triplice fischio finale c'è gioia anche per il neoentrato Megaro, che trova il 5-0 finale. Giornata dunque da dimenticare per i rosso-blu, che lasciano agli archivi una delle pagine più brutte della storia recente del club. La vittoria dei padroni di casa avvicina. Sempre di più, comunque, le due squadre al ritorno nei rispettivi campionati di eccellenza.